Isola ecologica di Bellizzi nel degrado. È la denuncia del consigliere di opposizione Angelo Maddalo, che si scaglia contro sindaco e giunta. Nel mirino le attuali condizioni dell'area in questione, che vede vasche stracolme e rifiuti sparsi sul suolo. Quella zona di Bellizzi è stufa di vedersi circondata da rifiuti maleodoranti e indecorosi all'attacco di Maddalo. Nonostante i sacrifici della raccolta differenziata, le persone che vivono il quartiere hanno pari dignità e non è giusto vedere uno stato d'abbandono dilagante.